4 minuti da Marta 2 minuti da Giulia 1 minuto da Sara Ogni minuto in più è importante per la ricerca contro il tumore al seno della Fondazione Veronesi L'INES sostiene il progetto Pinkies Good Da oggi ogni pacco vale un minuto Inserisci il codice che trovi all'interno sul sito L'INES E doni minuti alla ricerca L'INES per Pinkies Good I tuoi minuti aiutano a vincere I tuoi minuti a vincere